Buongiorno, bentornati a Medicina 33 e poi parleremo di endometriosi, di questo parliamo con il nostro ospite in studio di oggi, che è il dottor Marcello Ceccaroni. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, ginecologia ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar di Verona. Allora, il dottor Ceccaroni ci ha portato una serie di dati europei veramente inquietanti, ovvero che, mi corregga se sbaglio, circa il 26% delle donne affette da endometriosi perde il lavoro, il 30% sceglie un altro lavoro o rinuncia alla carriera e poi problemi per la socialità, ma anche per la sessualità, per il dolore che può comportare, giusto? Sì, assolutamente giusto. L'endometriosi è una vera e propria patologia che colpisce la sfera viscerale di una donna, ma anche la sfera relazionale di una donna. Possiamo davvero considerarla una piaga sociale perché è un dolore che si stratifica nei livelli più profondi della persona ed è un dolore dell'anima. Donne che soffrono da tanti anni hanno proprio questa tendenza a un abbandono, a questo dolore, a una rassegnazione. Potrei anche dire che nella realtà oltre il 60% delle teenager, quindi delle ragazzine, che stanno a casa da scuola per problematiche di dolore legate al ciclo, questo è uno studio finlandese di alcuni anni fa, stanno a casa proprio per la patologia endometriosica. Senta, ma una diagnosi precoce è sempre meglio naturalmente? Giusto? Perché lo diciamo sempre di tante patologie, no? Che la diagnosi precoce ci aiuta poi a tenere a bada o anche talvolta a guarire. Per l'endometriosi è la stessa cosa? Come in ogni patologia la diagnosi precoce nell'endometriosi è fondamentale, anche perché consente non solo di riuscire a identificare la malattia in stadi precocissimi o al suo esordio, ma addirittura di poterla curare senza la necessità di arrivare a delle terapie aggressive o farmacologiche o chirurgiche. Quindi è fondamentale nella maniera più assoluta la diagnosi precoce. Ecco, allora lei ha parlato di terapie, cominciamo da quelle farmacologiche. Che tipo di terapie sono? Sono delle terapie particolarmente aggressive? Le terapie farmacologiche sono a tutt'oggi basate come anni fa sulla pillola, la cosiddetta pillola volgarmente che oggi nella realtà racchiude almeno una ventina di prodotti diversi tra di loro. Pillola che è costituita da ormoni, estrogeni e progestinici o terapie solo a base di progestinico. Ci sono delle soluzioni nelle quali viene indicata una cosiddetta menopausa farmacologica, utilizzando farmaci chiamati analoghi del GNRH, ma di base alla terapia progestinica, quella che si sta rivelando molto efficace nella gestione delle endometriosi perché riduce il sanguinamento mestruale al minimo, addirittura facendolo scomparire e di conseguenza non permette alle lesioni endometriosiche ogni mese di infiammarsi e di cominciare ad avanzare con questo fronte di crescita. Senta, ci sono degli effetti collaterali per questo tipo di terapie? Le terapie di oggi sicuramente sono estremamente leggere. La cosa molto buona è che l'endometriosi si può curare con dosaggi molto bassi di terapie ormonali e conseguentemente gli effetti collaterali sono abbastanza generici, da un po' di ritenzione idrica alla cefalea nei soggetti più predisposti. Forse quello che nello specifico della cura dell'endometriosi è più ricorrente è il cosiddetto spotting, ossia qualche perdita piccola di sangue tra una scatola e l'altra perché appunto la mestruazione si cerca di abolirla. Spotting che colpisce circa un terzo delle pazienti che usano progestinico ma che inoltre della metà dei casi col tempo tende a estinguersi. Certo, ma poi soprattutto è un fastidio più che un effetto collaterale grave, questo voglio dire. Direi che dall'altra parte della bilancia c'è una patologia che può avere dei risvolti davvero brutali. Senta, invece la chirurgia, quando è che è indispensabile? La chirurgia diventa indispensabile in linea di massima quando c'è un dolore incoercibile, refrattario al trattamento farmacologico. L'endometriosi è una patologia da curare con i farmaci ma ci sono delle situazioni nelle quali sfugge al controllo farmacologico. Ci sono dei casi in cui dolore o non dolore la chirurgia è indispensabile quando ad esempio c'è il rischio di un danno d'organo. Nel centro da me diretto, che è un centro di riferimento internazionale, abbiamo casi davvero molto gravi che gestiamo. Quindi occlusione dell'intestino, stenosi, cioè restringimento dell'uretere, che è quel tubino che porta le urine in vescica, e quindi il rischio di perdita del rene, o già la perdita del rene, o localizzazioni extra pelviche come il diaframma, come il polmone. E quindi in questi casi sicuramente la chirurgia diventa importante. Un'altra indicazione è la fertilità. Eh, esatto. Certo, quindi, però ecco una cosa, perché purtroppo siamo in chiusura, stavo controllando il tempo, la fertilità può essere conservata. Noi ne abbiamo parlato di questo anche con la conservazione degli ovociti o del tessuto ovarico, insomma, no? Assolutamente sì, che va di passo con un ripristino della più normale possibile anatomia della pelvi, che è distorta dalla malattia. Grazie dottore, grazie. Grazie. E con questo io vi saluto, come ogni giorno, vi do appuntamento con Medicina 33. Arrivederci. Grazie.